Le opacità che nascono dentro la trasparenza della democrazia sono un problema pauroso, tant'è vero che nella mia privata biblioteca i libri sulla democrazia mi stanno mandando fuori casa, tanti ce ne sono, e quando si scrive tanto su un argomento la lingua batte dove il dente duole. E' un prodotto della storia e di un accidente storico perché gli americani hanno vinto la guerra, cosa a cui nessuno avrebbe creduto fino al 1943 avanzato, tanto per essere precisi. E' nello spazio, cioè perché ci sia quella che noi chiamiamo liberal democrazia, ci deve essere una storia che c'è solo in Occidente. Non perché gli altri sono peggio, semplicemente perché a questo mondo, grazie al cielo, c'è la diversità delle culture. E che non c'è bisogno di essere liberal democratici per detestare le tirannidi. Perché le tirannidi le detestano anche i cinesi, certo, ma non necessariamente le sostituiscono con una liberal democrazia, perché non sanno che cosa farsene. Ecco, voi direte, beh, detta così è facile, insomma, attenzione, liberare la democrazia dalla propria normatività universale vuol dire staccare nei limiti del possibile la democrazia dal capitalismo. Perché la forza universale è il capitalismo. E quello ha i suoi problemi, ma la democrazia non può essere trascinata dalle avventure del capitalismo. Cioè, di nuovo, la democrazia, come si diceva ai miei tempi, la democrazia si serve del capitalismo. Non è asservita al capitalismo. Questo vuol dire che prima bisogna prendere coscienza. La democrazia esiste solo se i cittadini sanno che cos'è. Ovvero, se i cittadini non credono che la democrazia sia consumo illimitato, trasparenza illimitata, con conseguenti delusioni paurose quando ti accorgi che il consumo illimitato te lo sogni e la trasparenza illimitata te la sogni. Allora, la democrazia esige consapevolezza. I cittadini la devono volere come atto politico. Chiaro? L'idea è, se la democrazia la vogliamo, la dobbiamo volere apertamente, senza illuderci che sia la soluzione dei mali del mondo. E dunque, quando troviamo davanti a noi un qualche problema di opacità, chiediamoci da dove nasce, invece di dire sono arrivati i mostri dalla luna. La serie di crisi che abbiamo attraversato nel ventunesimo secolo, che è partito malino, se vogliamo dirlo. Ecco, io non ho mai sentito un politico in posizione di responsabilità e di potere fare un discorso di verità e di onestà sulla questione da dove nascono i problemi. La prima risposta è sempre un problemuccio, non ti preoccupare. La seconda risposta è, sono dei mostri. L'unico che non siamo riusciti a mostrificare è il povero virus che non abbiamo ancora capito da dove salta fuori. Per il resto, sono tutti mostri, cioè sono tutti meteoriti che ci cadono addosso sulla nostra meravigliosa democrazia. Non è mai fare un discorso di analisi delle contraddizioni che inevitabilmente ci portiamo dentro, la principale delle quali, ed è insuperabile, io non sono un comunista, ed è insuperabile, però va gestita, è il fatto che dentro una forma politica che si propone come l'universale, esistono gli individui particolari che lavorano per la propria utilità particolare, cioè hanno messo in piedi il capitalismo, che è qualcosa che dà grande dinamismo, grande energia, ma anche enormi problemi. O pensiamo che dia soltanto soluzioni, e che la politica sia stata messa al mondo per consentire al capitalismo di funzionare. Io dico, al contrario, che il capitalismo è stato messo al mondo per consentire agli esseri umani di vivere bene, se ci riesce, e se non ci riesce ci pensa la politica. Cioè la volontà libera, razionale, consapevole, degli esseri umani che hanno stima di se stessi, pagando il prezzo di far politica, di pensare alla politica, di vivere in modo consapevole e critico. E se a scuola ti insegnano soltanto delle competenze, fanno male, perché ti devono insegnare prima di tutto pensiero critico. Cioè che il mondo è complesso e non è quello che sembra. Meno che mai quello che racconta di sé. Ecco. Per cui le opacità ci sono, sì, si possono eliminare. Alcune sì, il fatto che ci sia una logica geopolitica che spiega le relazioni internazionali non lo possiamo eliminare, c'è. Basta dirlo e gestirla nel modo democraticamente compatibile. Il capitalismo pone problemi accidenti. Sì, lo vogliamo dire, vogliamo capire che alcuni di essi sono insuperabili, altri invece sono superabili se c'è una politica che funziona. Cioè, voi capite, il giovinotto che gira per consegnare la pizza governato da un algoritmo non va bene. Che il giovinotto venga ammazzato in un incidente stradale è una disgrazia. Che venga licenziato nel momento in cui viene ammazzato è un po' peggio che una disgrazia. Che la risposta finale sia, ha fatto un errore di sistema, del resto nessun algoritmo l'aveva obbligato a correre, ecco, denota una impunità e un'arroganza che noi non sopporteremmo da un uomo politico. E perché dobbiamo sopportarle invece da un uomo dell'economia? Oh, è una storiella dell'altro giorno questa, eh? Però dice molto. Dice che questo ragazzo lavorava come uno schiavo, che non aveva nemmeno un padrone umano, ma aveva un padrone elettronico, e che quando non fa il suo lavoro viene licenziato con una prontezza disumana, letteralmente, che poi non lo faccia il suo lavoro perché è morto. Eh, che peccato, ma che bisogno c'era di morire. Se abbiamo rispetto di noi stessi, questa roba non la mandiamo giù. Se abbiamo rispetto di noi stessi. Se invece pensiamo che tutto ciò sia democrazia, cioè il destino, beh, francamente, io non lo penso. Io sono vissuto in un'epoca in cui tutto ciò veniva largamente stigmatizzato e si poteva ancora dire che non andava bene e si potevano perfino immaginare delle leggi poi opportunamente smantellate, no? Però, insomma, delle leggi in cui le persone venivano garantite e non dicevi che l'algoritmo non ti ha obbligato a correre perché è pure falso, perché sono praticamente pagati a cottimo e quindi ti obbliga a correre. Certo, non c'era l'elettronica che è un bel problema. È un bel problema. Che ha dato tante risposte, tante soluzioni, ma ha inventato tante nuove forme di asservimento, tante nuove forme di asservimento, fra cui fondamentale è quella che ci fa credere ad essere liberi perché scriviamo quello che ci pare su una tastiera. Eh no. Essere liberi è qualcosa di un po' più complicato, vuol dire confrontarsi con gli altri, non insultare. Grazie.